Allora, possiamo avviare l'udienza con la Costituzione delle parti. Filippone Roccosanto, mi date atto dal sito della presenza? Sì, buongiorno Presidente. Dal sito di Bari si dà atto della presenza dell'imputato Filippone Roccosanto, nato ad Anoia il 10 marzo del 40. Si rappresenta che sono garantiti tutti i diritti in materia di videoconferenze e non vi sono incompatibilità con questo ufficiale dpg. Grazie. Ne prendiamo atto della presenza difesa dagli avvocati. Guido Contestabile, assente. Avvocato Stajano Salvatore. Li sostituisco io entrambi. Filippo Strangi, buongiorno. Sì, quindi per delega l'avvocato Filippo Strangi, giusto? Sì, assi. Strangi. Sì. Per Graviano Giuseppe, mi date atto della presenza dal sito? Buongiorno Presidente Terni. Graviano Giuseppe, nato 369-63 a Palermo. Non ci sono compatibilità. Buongiorno e buon lavoro, signor Presidente. Grazie. Prendiamo atto della presenza di Graviano. Difeso dall'avvocato Giuseppe Aloisio. Buongiorno. Avvocato Adalgisa Di Benedetto, per delega. Lei? Io non la sento. Avvocato Adalgisa Di Benedetto, per delega. Va bene. Per delega. Avvocato Adalgisa Di Benedetto. Parti civile. Ministero dell'Interno della Difesa, presso avvocatura distrettuale dello Stato. Avvocato Luca Abigniente, Presidente. Presente? Presente, presente. Regione Calabria. Avvocato Michele Raosei, assente. Comune di Reggio Calabria. Avvocato Rizzi, assente. Comune di Rosarno. Avvocato Rosario Casella. Avvocato Giuseppe Basile, per delega. Per delega, avvocato Basile. Comune di Melicucco. Avvocato Leonardo Iamundo, per delega. Basile. Pasqua Vincenzo, assente. Avvocato Massimiliano Leanza. Si, sono io. Basile, per delega. Bartolomeo Musico, assente. Avvocato Canzone, Giuseppe Canzone, per delega. Basile. Prossimi congiunti di Fava Antonino. Vicari Teresa, assente. Fava Maria Antoni, assente. Avvocato Giuseppe Basili, presente. Anile Antoni, assente. Fava Ivana, assente. Fava Valerio, assente. Avvocato Antonio Ingroia, per delega. Basile. Prossimi congiunti di Garofalo Vincenzo. Scano Patrizzi, assente. Garofalo Guglielmo, assente. Garofalo Andrea, assente. Avvocato Antonio Ingroia, per delega. Basile, Garofalo Guglielmo, deceduto. Giucca Giovanna, deceduta. Garofalo Loredana, assente. Garofalo Carmelo, assente. Avvocato Gaia Maria Lamicella, per delega. Basile. Va bene. Avamo previsto per oggi intanto l'esame del test che abbiamo sentito. prima sentiamo il test di Stefano. Si può accomodare? Sì. Presidente, metto a disposizione della Corte la comunicazione del DAP in relazione al computer consegnato a Graviano. Quindi da qualche giorno è a sua disposizione e da quello che risulta sta ascoltando i file. Va bene. Ne prendiamo atto e disponiamo l'allegazione al verbale d'udienza della nota oggi esibita dalla Procura Generale. L'ho data in visione agli avvocati. Sì. Sì. Diamo atto. Grazie, Procuratore Generale. I file non compatibili col computer, Presidente, sono file non audio. Quindi la richiesta di Graviano era di ascoltare gli audio perché ovviamente i file che contengono le trascrizioni erano a sua disposizione già da molto tempo, già nel corso del processo di primo grado. Va bene, d'accordo. Quindi con questa precisazione... Quindi il problema che segnalano in quella nota è un falso problema. Quindi il problema è l'ascolto degli audio e gli audio li sta ascoltando. Allora, il Procuratore Generale specifica che in relazione alla nota attestante alla consegna del personal computer al detenuto Graviano Giuseppe Quindi il personal computer serviva per l'ascolto, dico bene? l'ascolto dei file audio proprio perché il lettore precedente non consentiva l'ascolto proprio di quella tipologia di... Sì, un attimo prego prego la tipologia diciamo del... Procuratore Generale un attimo Sì prego Presidente Questo motivo Scusi ma chi sta parlando? Non ho capito Allora Terni buongiorno chiedo scusa Presidente l'imbutato Graviano vorrebbe far rispondere alle dichiarazioni Sì un attimo però me lo potevate dire dopo che avevo finito di parlare cortesemente non mi interrompete me ne ha dato lo so lo so avete fatto bene però fatemi completare un momento e poi me lo dite quindi chiede di fare dichiarazioni spontanee chi? degli imputati Graviano Va bene Allora riprendiamo il discorso in relazione alla nota il Procuratore Generale è precisa che può dettare testualmente Procuratore Generale così facciamo prima Che le problematiche tecniche indicate nella nota relative al fatto Piano Piano Procuratore Generale che lo sta trascrivendo integralmente al verbale Mi passi quello per favore Procuratore Generale si può sedere se viene più comodo se no c'era quel vecchio sistema che è stato eliminato cioè di mettere sotto dei volumi per alzare il microfono e fare che sia stato portato in qualche altra udienza Le problematiche segnalate nella nota che noi produciamo sono relative a file diversi da quelli audio e cioè ai file che contengono le trascrizioni visto che la richiesta del graviano era di accedere ai contenuti vocali il pc consegnato è assolutamente idoneo a questo scopo e nessuno ha segnalato problematiche sugli audio va bene d'accordo quindi alleghiamo la nota al verbale allora l'imputato Graviano Giuseppe ha chiesto di poter fare dichiarazioni spontanee e ha messo prego diamo atto un attimo diamo atto che è intervenuto in aula l'avvocato Stagliano che è presente Quattrone io avevo informato all'avvocato che mi avevano consegnato il computer però ancora i file non sono tutti caricati fino a ieri sera hanno caricato alcuni file poi e ancora non so se funzionano oppure no poi io non ho avuto nemmeno le trascrizioni perché come ho sempre scritto alla signoria rossa come ho sempre dichiarato nelle dichiarazioni spontanee loro si sono portate anche le ebook quindi io non ho letto niente non ho letto da quando facciamo il processo una dichiarazione di collaboratori di giustizia un payballo di collaboratori di giustizia io quando hanno presentato quando hanno depositato la sentenza non ho avuto la possibilità di leggere la sentenza di primo grado e si sono chiusi i termini che io ho scritto anche alla signoria se non mi fanno leggere la sentenza come fa l'avvocato ad aggiungere motivi per i motivi che si doveva fare il proposto d'appello quindi ancora io lo sto facendo siccome quello che ha detto il signor procuratore generale non risulta non che lo dice lui quello che gli aspetta non risulta verità è sufficiente acquisire e regirci perché a me quando mi viene consegnato le buche che non mi viene consegnato più da anni io firmo quando mi viene consegnato un computer io firmo e il computer mi è stato consegnato venerdì sera scorso e se lo ritirano sempre per caricare il file perché ancora i file non sono i carri le buche non me le hanno consegnato più adesso mi hanno detto che hanno portato le chiascrizioni sul computer però io l'ho avuto venerdì sera in tutti questi anni che è iniziato il processo io non l'ho avuto completamente nessuna trascrizione perché nemmeno posso tenere cartaceo in camera perché me l'hanno se lo sono portato tutti dicendo che si è a rischio di incendio invece del cartaceo devo tenere un digitale adesso io mi volevo portare un computer qua e mi hanno detto no perché non si può portare ho detto scusi ma è mandato a processo senza documento questo è la situazione che si è sono cose semplici che si potrebbero risolvere ma se ci incontrano sempre ho stato l'impendimento a leggere i documenti processati io ancora i file non li ho potuti vedere perché ieri sera li hanno caricati una parte e lì le registra 9.02.2023 quindi quindi voglio portare una risposta alla prossima udienza per il discorso che ha avuto delle riscrizioni non rispondo a verità la ringrazio buona giornata allora prendiamo atto delle dichiarazioni di Graviano e poi eventualmente il procuratore generale ci potrà fornire chiarimenti in relazione a quanto è esposto io i chiarimenti li posso fornire subito non credo che al Graviano siano impediti i diritti garantiti a tutti gli imputati che in questo momento sono a processo sul territorio italiano quindi a noi risulta che l'unico impedimento era legato all'ascolto dei file audio quindi se l'avvocato di Graviano interverrendo dopo di me ci viene a dire che non ha interloquito con il suo assistito mettendo a disposizione del suo assistito gli atti del processo noi ne prenderemo atto a noi questo non risulta quindi l'insistenza di Graviano era sugli audio grazie procuratore generale ci sono osservazioni da parte della difesa di Graviano sì presidente i file e anche i documenti erano stati messi a disposizione del Graviano come il Graviano ha detto poi lui non ha avuto la possibilità perché non gli consentono di avere sempre le book di poterli leggere credo sia questo che il Graviano lamenta avvocato ma lo stiamo apprendendo oggi perché le insistenze di Graviano erano legate all'ascolto dei file audio oltre all'ascolto anche alla consultazione dei documenti come lui ha detto adesso bene allora se c'è questo problema tecnico ci occuperemo anche di questo problema grazie ecco dottore magari grazie grazie procuratore generale grazie avvocato va bene possiamo intanto proseguire con l'audizione del test se ci dice il suo nome e cognome proseguiamo con l'audizione dalle precedenti udienze Michelangelo Di Stefano in servizio presso il centro operativo D di Reggio Calabria naturalmente si impegna a dichiarare il vero come da formula già letta era previsto per oggi esclusivamente il controesame da parte delle difese in relazione alla nota del 23 gennaio 2023 che riguardava l'autovettura in oggetto della quale lei ci ha riferito e allora i difensori sono autorizzati a fare il controesame ma mi pare avesse presidente si tratta di questa nota mi pare avesse già preannunziato il collega l'acquisizione veramente no abbiamo fatto venire il test per questo ho parlato con il pubblico ministero per noi va bene anche due minuti fa presidente va bene dottor Lombardo due minuti fa più che sufficiente diciamo che sopravvalutate le capacità diciamo del procuratore generale e quindi due minuti fa mi è stato detto che si può acquisire la nota quindi concordemente la procura generale e le difese di entrambi gli imputati chiedono l'acquisizione e l'autolizzazione probatoria della nota di PG a firma del procuratore generale a firma del test mi pare o no quella nota se me la date un attimo è redatta sicuramente dal dottor Di Stefano ora comunque vediamo da chi è sottoscritta credo dal capocentro il colonnello Mario Intelisano comunque la nota di Polizia giudiziaria del 23 gennaio 2023 contestualmente la difesa le difese degli imputati rinunziano al controesame per come stato era stato previsto alla precedente udienza del 23 gennaio 2023 va bene poi mi pare che è sufficiente grazie dovere grazie arrivederci allora poi dovevamo sentire oggi Presidente viene acquisita adesso la nota si l'ho già disposto è acquisita per l'utilizzazione probatoria ne hanno copia proprio le difese come ne hanno copia proprio le difese quindi se è possibile possiamo acquisire la copia che hanno loro ma comunque ce l'abbiamo no non ce l'abbiamo perché effettivamente c'è stato l'esame su questo sì o comunque ce la trasmette poi il PG forma trasmetto io è chiaro ecco perché chiedevo d'accordo e allora ci possiamo collegare per sentire Bruzzese che deve riferire sulla missiva di cui un attimo un attimo che erano già espresse non avevano dato il consenso come ci risulta anche formalmente se non ricordo male all'acquisizione della missiva quindi se riusciamo a collegarci sentiamo Bruzzese buongiorno signor presidente buongiorno dal sito riservato si è dato della presenza di Bruzzese in Cirolo ammurato il 2 giugno a 63 a Gizzicoli si è dato inoltre che sono sedate tutte le disposizioni in materia di procedimenti di videoconferenza che non vi sono incompatibilità nel procedimento tra il sottoscritto un pc in testo è presente anche il legale di fiducia e il legale di grazia il collegamento video è funzionato e buon lavoro grazie avete segnato il nome dell'avvocato va bene allora prego procuratore generale può avviare l'audizione di Bruzzese Girolamo Biaggio mi autorizza a stare seduto prego Bruzzese mi sente sì buongiorno oggi il collegamento funziona bene perché lei in questa missiva ci scrive che a volte la voce non arrivava in maniera chiara mi sente chiaramente sì adesso sì la sento chiaramente non so se voi mi sentite bene ci spiega le ragioni di questa missiva prima di entrare diciamo nel merito delle ulteriori informazioni che lei ha fornito sì ma se mi è consentito procuratore io volevo fare una breve diciamo premessa con una piccola dichiarazione spontanea prego mi oppongo presidente non è un no no non è una dichiarazione spontanea ma chiedo perdona non può rendere lasciamo perdere quello che dice Bruzzese ho fatto io la domanda il perché della missiva forza Bruzzese va bene sì risponde alla domanda della procura generale non è una dichiarazione spontanea glielo sto chiedendo io va bene procuratore prego chiedo scusi bene io stavo attraversando un momento particolare diciamo in quei giorni che sono stato sottoposto sia ad interrogatori che a contresale ragione per la quale non stavo bene fisicamente tutta la giornata sono rimasto a digiuno la sera precedente durante la notte mi sono sentito male mi sono dovuto alzare ho passato una notte diciamo difficile e praticamente io in queste condizioni diciamo fisiche che non sono al 100% come salute non sono riuscito a dare il 100% delle mie diciamo capacità di ricordare di contestualizzare i miei ricordi nel mio dichiarato è tant'è vero che la sera mentre ci spostavamo da un sito all'altro io mi sono sentito male al punto tale che sono intervenuti diciamo il 118 e hanno fatto degli accertamenti di sul posto con elettrocardiogramma il loco e di cui si è riscontrato diciamo la dottoressa che è intervenuta insieme ai suoi assistenti ha riscontrato un attacco di gastrite acuta solo per a dire del medico per accumulo di ansia e stress quindi quindi Bruzzese anche di queste di queste particolarità per cui mi scusi Bruzzese mi sente sì quindi c'è documentazione sanitaria che attesta le problematiche che lei ci ha segnalato sì procuratore ed è in suo possesso questa documentazione qui sul posto no procuratore no ma è in grado di produrre questa documentazione certo sì bene allora acquisiremo poi questa documentazione prego prosegua nel momento in cui mi sono sentito male c'era la scorta con me va bene prosegua tant'è vero che si optava di tornare indietro diciamo o ricovera in ospedale però io per l'impegno processuale mi sono assunto la responsabilità gli ho detto no proseguiamo andiamo avanti finché poi così è successo va bene quindi per effetto diciamo di quella condizione non ottimale lei dice oggi ho diciamo omesso dimenticato non ho puntualizzato una serie di circostanze a mia conoscenza è così? sì procuratore ma anche perché la sua voce arrivava fremmentata ed io non sono riuscito a capire nel concreto o quale era diciamo la domanda per cui ho dato risposte magari sbagliate va bene senta io ho la sua missiva qua davanti ho selezionato sette argomenti che lei indica e porta la nostra attenzione il primo di questi argomenti sarebbe riferibile alla responsabilità sul rapimento moro mi vuole dire che cosa lei sa di questo accadimento da chi ha preso le circostanze che è in grado di riferire e tutti i particolari a sua conoscenza bene quando siamo entrati in argomento con mio padre Teodoro Crea io gli chiesi se l'andrangheta avesse avuto un ruolo nel rapimento moro e loro mi confermarono di sì quindi il ruolo dell'andrangheta nel rapimento moro ce l'ha avuto successivamente in quel periodo lì che io indico che c'è stato anche l'incontro con Silvio Berlusconi e Bettino Craxi in quel periodo lì mio padre e Domenico Giovinazzo Mimmo Giovinazzo il cognato di Peppa Vignone si recarono a Roma di che rimasero circa un mese lì a Roma ma non ne conosco il motivo per il quale loro sono andati a Roma quindi senta senta Bruzzese l'argomento moro viene introdotto nel processo sulla base di domande che le vengono poste dalla difesa e quindi non dal procuratore generale in quanto la difesa recuperando un verbale di dichiarazioni da lei reso nel 2004 di cui abbiamo traccia esatta nella nelle trascrizioni di udienza lei collega in quel verbale il rapimento moro il ruolo dell'andrangheta e l'incontro con Craxi se lo ricorda si e allora mi vuole spiegare bene mi vuole spiegare bene intanto la ragione per la quale lei immediatamente quindi in maniera tempestiva nei 180 giorni dall'inizio della collaborazione con la giustizia fa questo riferimento in cui collega Andrangheta Moro e Craxi perché quando c'è stata la strage di Razzara Guerino Vignoni il figlio di Giuseppe Vignoni che con me coltivava un'amicizia legata diciamo alla latitanza sia di Domenico Giovinazzo sia di mio padre perché io ho conosciuto Guerino Vignoni durante il periodo della latitanza di suo cugino Mimmo Giovinazzo mio padre poi l'amicizia è andata avanti e io frequentavo questa famiglia Vignoni soprattutto frequentavo Guerino se non che un giorno mentre io lo accompagnavo a casa percorreva la via Dante a Cittanova loro stavano rapitavano alla fine della via Dante di Cittanova suo nonno lì nei pressi aveva un mulino suo nonno è Guerino Anselmo un mulino per la farina per la molitura del grano produceva farina sulla strada lì sulla via Dante quasi alla fine abbiamo visto una coincitazione di persone tra cui c'era suo fratello Vincenzo sua cognata la moglie di suo fratello Vincenzo e la mamma di Guerino Avignoni la moglie di Peppe Avignoni e la signora la moglie di Vincenzo Avignoni piangeva e si lamentava nei confronti della suocera perché l'aveva picchiata sia Guerino che io scesimo dalla macchina per cercare diciamo di buttare un po' d'acqua sul fuoco e capire che cosa fosse successo ma lì c'era pure Pasquale di Pietro che sarebbe un cognato di Peppa Vignoni professore di Pietro quando gli anni mi furono sedati io e Pasquale di Pietro andammo a casa di Pasquale di Pietro e Guerino Avignoni se non che Vincenzo Avignoni minacciava di raccontare chi c'era lì il giorno della della strage di Razzà e infatti Pasquale di Pietro parlò di tale Enzo Caferi poi successivamente con Guerino e chi è questo Enzo Caferi e io non lo so chi è Enzo Caferi loro dicevano che era un personaggio che si doveva tutelare che si perché praticamente la suocera della ragazza la mamma di Guerino Avignoni non volevano che lui cioè questo matrimonio non lo volevano allora Enzo Avignoni innamorato di quella ragazza la voleva a tutti i costi e minacciò la famiglia di rivelare queste circostanze e poi fu Pasquale di Pietro a rivelarmeli a me quel giorno successivamente Guerino Avignoni mi confidò altri particolari ovvero che Enzo Caferi si era adoperato affinché procurasse un alibi al suo padre a Roma ma lo so ci fu una testimonianza di un vigile urbano una contravenzione una roba così per quel che mi ricordo e che comunque questo Enzo Caferi era un soggetto un collante tra la politica come diceva lui nel suo racconto è l'andrangheta che era amico di Peppe Piromalle che era amico di suo padre di Peppe Avignone che insomma era amico di questi personaggi e che tuttavia nel racconto lui stesso mi confermò anche Guerino Avignoni che questo Enzo Caferi in un certo qual modo ha avuto anche lui un ruolo dentro il rapimento muolo poi successivamente quando ne parlai con mio padre e con Teodoro Crea loro confermarono questa cosa però non mi dissero di Enzo Caferi di tale Enzo Caferi confermarono questo rapimento poi nell'immediato quando io apri argomento lì la sera della mia diciamo quando mi sono costituito l'arma dei carabinieri io un attimino mi sono fermato perché già queste dichiarazioni ve le ho resi vi ho spiegato il motivo per il quale io mi sono diciamo bloccato a dire tutto il resto sì successivamente che cosa è successo ieri era il 9 febbraio procuratore il 9 febbraio del 2004 è stato ucciso mio scocero sì il giorno successivo procuratore io ho fatto un'istanza e mandai l'istanza tramite ufficio matricola del carcere presso la DDA di Reggio Calabria indicando che uno dei prossimi obiettivi poteva essere mio zio Bruzzese Salvatore successivamente mio zio Bruzzese Salvatore obiettivo dell'andrangheta di vendetta parlo io diciamo dell'andrangheta dalla cosca crea successivamente mio zio Bruzzese Salvatore venne fatto oggetto del tentativo di omicidio a Milano poi io venne chiamato dalla dottoressa Laura Barbaini alla DDA di Milano a rendere dichiarazioni e lì è immerso il fatto che mio zio nessuno si era curato di dirgli guarda che tu stai in pericolo che sei oggetto di potresti essere oggetto di una vendetta qui c'è c'è un qualcosa che nei miei riguardi e nei riguardi della famiglia Bruzzese è stata attuata e posta in essere diciamo in virtuti di una vendetta trasversale per cui io in un certo senso dovevo tutelare chi era rimasto sul territorio e quindi mi trattenne un attimino nel riferire il nome di Berlusconi però successivamente io l'ho riferito il nome di Berlusconi e ho reso anche la dichiarazione del discorso del tradimento dell'andrangheta nei confronti della mafia di bontà se non è stato verbalizzato se non era oggetto di interesse all'epoca io non lo so però l'ho detto quindi quindi il tradimento nei confronti dei palermitani di cui ci ha parlato nella sua precedente escussione si quel tradimento vengo alla domanda che ha fatto prima procuratore si certo la stessa ragione in un certo qual modo io la ponevo in essere sul riferire che cercando in qualche modo di entrare nell'argomento col discorso Moro come se l'andrangheta si doveva adoperare alla liberazione di Moro ma non è così perché quell'incontro è stato successivo alla morte di Moro e ne ho spiegato le ragioni quindi l'indicazione mi scusi quindi l'indicazione di un'andrangheta che doveva operare per liberare Moro che lei fa nel 2004 non è diciamo quanto lei aveva appreso in mentre lei ha appreso che l'incontro è successivo è così no aspetti procuratore mi spiego meglio l'incontro era successivo alla morte di Moro benissimo però sì però temendo la gravità delle dichiarazioni no il fatto che le persone non erano state tutelate in merito diciamo all'incolumità di vita io ho aperto l'argomento Moro in quel modo ma sperando che successivamente l'argomento rivenisse riposto e rivenisse diciamo rivisitato dalla procura approfondito dalla procura allora mi ascolti Bruzzese dobbiamo essere chiari oggi quindi lei colloca e conferma quindi che l'incontro Craxi Berlusconi con gli esponenti di Andrangheta che ha già indicato è successivo all'omicidio Moro è così? assolutamente sì bene in relazione all'interessamento dell'Andrangheta per la liberazione di Moro lei ha avuto informazioni e quindi voglio dire c'è stato questo interessamento che lei sappia oppure no? sì anticipatamente però non a quell'incontro procuratore anticipatamente durante il sequestro Moro c'è stato e questo lei lo apprende da suo padre da suo padre e da Crea? sì sì procuratore c'è stato ma è stato lei a chiedere a suo padre a Teodoro Crea dettagli sul ruolo dell'Andrangheta relazione al rapimento e all'omicidio Moro o è stato un discorso che è nato per altri motivi? non mi ricordo adesso qual era il contesto dell'argomento per come è nato l'argomento ma in quel momento lì loro hanno riferito queste cose qui ora non non chiedo troppo alla mia memoria per arrivare mi ascolti mi ascolti mi ascolti un altro un altro aspetto secondo me importante il ruolo dell'Andrangheta c'è stato nella vicenda Moro nel senso che ha contribuito al rapimento di Moro o invece l'Andrangheta ha avuto un ruolo soltanto per tentare di liberarlo no l'Andrangheta ha avuto il ruolo nel rapimento poi successivamente qualcuno della politica non so non mi ricordo chi è il soggetto chi sono i soggetti che si sono adoperati chiedevano l'intervento diciamo dell'Andrangheta in favore che si adoperasse alla liberazione di Moro e l'interlocuzione a questi fini con quali famiglie di Andrangheta è avvenuta? con la famiglia Piromalli procuratore e perché sempre i Piromalli? perché Peppe Piromalli dopo la morte di Momo Piromalli è stato lui diciamo il successore del del dominio assoluto sulle cosche diciamo lui era lui è stato scelto come era stato scelto suo fratello Momo Girono cioè lei mi sta dicendo mi scusi Bruzzese mi creda parlo anche lentamente perché vorrei che le mie domande arrivassero con estrema chiarezza quindi lei mi sta dicendo che nel momento in cui l'Andrangheta è stata interpellata in relazione alla possibile liberazione di Aldomoro Peppe Piromalli era il numero uno dell'Andrangheta quindi mi sta dicendo che già l'Andrangheta all'epoca aveva un soggetto che aveva questo ruolo di vertice assoluto sì ce l'aveva con Momo Piromalli ce l'aveva con Momo Piromalli quindi contattarono lui in questa veste non diciamo come titolare come come vertice di una delle tante famiglie ma lui Peppe Piromalli era amico di tale Cortese Carmelo Cortese se non sbaglio si chiamasse che per come mi disse mio papà il Teodoro Grea il Carmelo Cortese era amico di di Cioggelli e per come ragionavano loro diciamo il suo ragionamento era che Peppe Piromalli in quel momento giocava con due mazzi di carte ovvero praticamente da un lato voleva apparire come se fosse stato lui ad interessarsi alla liberazione al tomoro mentre lui aveva avuto un ruolo specifico nel rappimento moro questo loro glielo criticavano diciamo in questo senso qui veniva criticato mi perdoni mi perdoni Bruzzese ma perché secondo lei è incompatibile il fatto che abbia avuto un ruolo nel rapimento e poi sia stato invece interessato per liberarlo l'opposizione è la richiesta di una valutazione allora quindi lei Bruzzese ha avuto informazioni voglio dire che hanno fatto emergere l'incompatibilità tra i due ruoli mi perdoni lei nel nel discutere della vicenda moro con suo padre e con Teodoro Crea ha avuto indicazioni da queste persone sull'incompatibilità tra il fatto che l'andrangheta avesse rapito moro e fosse stata interessata alla sua liberazione opposizione paresemente suggestiva assolutamente no se comunque il collaboratore ci vuole fornire le notizie che ha preso in relazione al sequestro moro cioè quando lui dice che l'andrangheta era coinvolta nel sequestro di persone in concreto e specificamente che cosa sa ecco e se ce lo vuole riferire e poi in relazione alla liberazione che cosa sa ha sentito Bruzzese la domanda del presidente si posso rispondere certo ma la loro argomento era se Peppe Pieromalle ha avuto un ruolo nel rapimento o è che si poteva liberare Moro per volontà di Peppe Pieromalle lei ci ha detto che l'andrangheta si è interessata è stata interessata comunque nel rapimento nel rapimento il primo che arriva frammentato io non ho già presente aspetti che succede? dica che è stato interrotto anche il collegamento video e che noi non vediamo niente sentiamo voce frammentata si anche qui dal sito di Bari termine Bruzzese ci sente ora? eh? si allora lei prima ha detto che l'andrangheta è stata interessata nel sequestro di Moro allora io le chiedo in concreto cosa ha saputo rispetto a questa dichiarazione poi ci ha detto che è stata comunque investita per la liberazione di Moro che cosa ha saputo allora la prima domanda e poi la seconda la prima domanda è che cosa ha saputo quello che ragionavano due sia mio padre che Teodoro Crea in virtù del fatto che Peppe Pieromalli era manovrato da Alicia Gelli e per cui loro sapevano qualche argomento in più però non è che si sono aperti totalmente sul diciamo sul loro specifico che ha avuto Peppe Pieromalli quindi se loro dicevano ma se non è che il suo ragionamento era questo anche era possibile lui erano due come intendevano loro erano due fasce politiche una che si era adoperata per il rapimento un'altra che si era adoperata per la liberazione quindi c'era un un gioco a scala bilaterale come intendevano loro questo era il ragionamento che loro facevano non è che si sono aperti totalmente ad argomenti di chi ha partecipato chi erano nello specifico i soggetti di Andrangheta nel rapimento però nel loro ragionamento la concentrazione era sul ruolo che ha avuto l'Andrangheta e sulla diciamo la malagestione di Peppe Pieromalli nei confronti diciamo di questa situazione questa era diciamo che poi non è che io ho vissuto questi momenti diciamo dal 78 al 79 all'80 perché sentivo i loro ragionamenti questi sono successi dopo questi ragionamenti qua che loro hanno fatto non so se la mia risposta è esaustiva va bene prego continuiamo perché quando nel 2004 lei riferisce di aver saputo che era stata interessata l'Andrangheta per rapire e per liberare Moro lei non dice anche che l'Andrangheta aveva avuto un ruolo nel rapimento procuratore non c'è un perché c'è soltanto un blocco diciamo dovuto all'enorme mole di responsabilità sull'argomento che in quel momento io stavo acquisendo ora come dire il biglietto che ho trovato nel passeggio il fatto che la mia collaborazione è avvenuta diciamo in un momento in cui io ho sparato a Teodoro Crea cioè emotivamente come dire c'era un carico di stress eccessivo la morte di mio suogero ha caricato eccessivamente diciamo lo stress ragione per la quale io cercavo di stringere un attimino l'argomento per sentivo un peso diciamo enorme sulla responsabilità che io in quel momento stavo acquisendo attraverso le mie dichiarazioni non è che io volevo mettere qualcosa nella maniera più assoluta procuratore tanto è vero che nonostante tutto quello che la mia famiglia ha subito io sono andato avanti non mi sono mai tirato indietro sempre con coerenza correttezza e onestà della verità dei fatti perché non è che io mi sto inventando qualcosa in quel momento che io ero lì e c'è stata questa presenza di di Cracisi e Berlusconi io mi rendo conto che era un ragazzo a quel tempo e quando Beppe Piromalli si rese conto che c'era un ragazzo lì e chiede l'ordine a mio padre e dice ma sto ragazzo capisci fami la persona che mi ha portato via di là è ancora in vita ed è testimone anche lui di questa cosa qua ora quello che io cerco di dire no qui c'è la storia d'Italia c'è il rapimento di un personaggio politico di spessore loro indicavano responsabilità anche agli americani sia mio padre che Teodoro Crea dicevano che la responsabilità di questo rapimento è anche degli americani che hanno avuto un ruolo determinante affinché ci fosse diciamo in quel momento l'ADC il crollo dell'ADC che non piaceva più la politica diciamo che loro questi ragionamenti facevano e quindi io sto cercando di capire la il peso la mole di queste dichiarazioni su Bruzzese Girono Piaggio che poi alla fine resta sempre diciamo il punto centrale che io non è che sono una persona diplomata che mi so esprimere in termini da farmi capire al cento per cento sono una persona di quinta elementare però lo stress è stato tale e lo è ancora io anche in questo momento che io sto facendo dichiarazioni procuratore io non è che sto bene fisicamente perché guardi la mente va in una direzione mentre il corpo non risponde più a questa a questa situazione per cui mi rendo benissimo conto che le mie dichiarazioni sono importanti per contestualizzare la verità di un percorso storico che ha coinvolto gli italiani e la politica italiana e questi sono i fatti sarà stato questo e lo è stato il motivo per il quale io stringiamo però nessuno può dire in questo momento Bruzzese non ha fatto la dichiarazione perché voleva omissare perché io non volevo omissare niente è stato chiaro Bruzzese è stato chiaro è stato chiaro le chiedo ancora in questo verbale del 23 marzo 2004 lei prima di introdurre riferimento alla richiesta che l'Andrangheta aveva ricevuto per la liberazione di Aldo Moro dice che c'era connessione tra massoneria e politica sì perché diciamo un attimo prima di parlare della vicenda Moro lei fa questo riferimento perché io devo chiarire il fatto che Momo Peromalli Peppe Peromalli Pino Peromalli Nino Pesce Nino Mammoliti e qualcuno degli Alvaro avevano una doppia affiliazione con drangheta e mafia ma che cosa vuol dire che cosa vuol dire in questa missiva che lei manda oltre ai nomi che lei ha già fatto intanto fa anche il nome di Paolo De Stefano sì è corretto bene che cosa vuol dire avere la doppia affiliazione cerchiamo di approfondire le affermazioni che lei fa che questi soggetti erano un ruolo di vertice apicale anche nella mafia e praticamente per quello che sono le mie conoscenze sull'argomento l'ondrangheta Momo Piromalle che al tempo era il capo di tutta l'andrangheta del territorio reggino della provincia di Reggio Calabria era tenuto molto in considerazione dai padernitani da bontate e da abbatalamenti e quindi avevano ricevuto la doppia affiliazione per cui negli argomenti nodali diciamo delle decisioni nodali ma queste erano cose che loro facevano non in presenza di tutti ma nelle loro riunioni nelle loro decisioni e loro venivano tenuti in considerazione gli indranghetisti anche perché vede il procuratore Paolo Romeo aveva un ruolo di massoneria per quello che mi ha specificato Teodoro Crea chi è Paolo Romeo mi scusi a quale Paolo Romeo fa riferimento visto che Romeo è il cognome più diffuso della provincia di Reggio Calabria ma lo era diffuso anche al tempo quando a me mi venivano fornite queste conoscenze di quale Paolo Romeo sta parlando non lo era diffuso come lo è adesso ma in contesto si conoscevano certi diciamo soggetti e quindi di quale Paolo Romeo sta parlando l'avvocato Paolo Romeo Reggio Calabria ho capito prego è vicino a Giorgio De Stefano l'avvocato De Stefano era persona vicina a Paolo De Stefano anche Teodoro Crea era molto vicino a Paolo De Stefano come lo era Peppe Piromalli quindi io tutte queste conoscenze le acquisisco da Teodoro Crea e quindi mi scusi mi scusi il fatto che quindi i soggetti che lei ha appena indicato avessero la doppia affiliazione e lei dice fossero anche al vertice di Cosa Nostra e questa è la ragione che spiega il fatto che i palermitani erano venuti qui dai calabresi a chiedere il loro sostegno nella potenziale nella futura guerra ai corleonesi assolutamente sì e quindi erano tenuti a farlo per quello che lei fa per quello che lei sa c'era un passaggio obbligato quello di venire a chiedere ai calabresi certo era un passaggio obbligato l'operazione congiunta la chiamò Badalamenti l'operazione congiunta la chiamò Teodoro Crea e Nino Gangeli operazione congiunta operazione congiunta va bene senta un attimo poi ci torniamo su questo specifico argomento nella missiva che lei invia lei precisa anche di un episodio che avviene a Roma nei pressi del ristorante Il Fungo Sì dove sono stati fermati in un fermo di 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 Paolo De Stefano Pasquale Condello Peppe Biromalli Saverio Mammoliti e un esponente della della banda della Magliana di Roma Quando io chiesi contezza a Teodoro Crea di questo fatto lui lo contestualizzò nel preliminare del rapimento Moro Mi scusi ma lei in che occasione chiede contezza della riunione del fungo Durante la latitanza del 1996 95 96 che trascorrevo con Teodoro Crea e perché e le spiego il perché ci fu la collaborazione di di un catanese un malpassore e una mattina ci venne dopo questa collaborazione ci venne a trovare durante la nostra latitanza tale Violi che sarebbe il cognome lei nome e cognome della persona soprannominato malpassoto lo conosce Pulvirenti il cognome lo conosce prego Giuseppe Pulvirenti bene nome e cognome ottimo venne venne Giuseppe Violi a trovarci durante la latitanza mia e di Teodoro Crea Giuseppe Violi è il cognato di Nicola Alvaro e si lamentò di del malpassoto con prima con ingiurie e poi dice quando si riferiva a un suo incontro col malpassoto e lui era preoccupato tale per Teodoro che rivelasse alcune circostanze quali riferite al almeno per quello che diceva lui l'omicidio della Chiesa quindi c'erano soggetti di indrangheta preoccupati dalle potenziali rivelazioni del malpassoto sì perché la famiglia Violi Peppe Violi la famiglia Alvaro era vicina alla famiglia Santa Paola e il soggetto che collaborava in quel momento era uno dei diciamo degli uomini all'apice della famiglia Santa Paola e Peppe Violi era preoccupato di questa cosa e quindi riferiva Teodoro Crea alla sua preoccupazione cercando di capire come si potevano muovere in che direzione si potevano muovere e quindi c'era questa preoccupazione successivamente ne approfondivi Teodoro Crea non in questo lato ma nel lato dell'operazione congiunta nel lato del diciamo dell'avvedimento di di Paolo De Stefano nei confronti di di bontà del Parlamento e tutto quello che ne ho riferito dopo in merito a questa questione qui però mi deve riallacciare alla domanda che ha fatto in che occasione lei parla con Crea della riunione del fungo e lei ha iniziato a fare riferimento all'inizio della collaborazione di Giuseppe Pulvirenti sì sì aspetti il procuratore ho divagato un attimino quando quando è cominciata la collaborazione di 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 Saro Mammoliti nel 2002 e perché inizia quindi lei chiede del fungo perché già sapeva che Saro Mammoliti aveva partecipato a quel summit sì allora le cose andranno in questo modo ci trovavamo c'era Micorugolo ci trovavamo lì nella zona di Castellace piano di pace e Teodoro Crea era preoccupatissimo per questa collaborazione di lo era tutta l'andrangheta preoccupatissimo ma soprattutto Micorugolo e Micorugolo di fronte a me di fronte a Teodoro Crea e temeva anche che venisse coinvolto nella collaborazione anche Nino Mammoliti che era il detentore dei segreti più importanti e quello che teneva gli allacci con la politica anche di quel periodo anni 80 anni 70 per cui ci trovavamo in argomento per quanto riguarda questa questione e quindi Teodoro Crea a un certo punto cominciò a parlare di questa situazione del fungo è riferita e dava delle responsabilità a Micorugolo e anche a Nino Mammoliti attribuendo lui il fatto che dice voi lo sapevate che Saro era in questo modo e sapevate pure che aveva contatti con i servizi segreti dice se rivela tutta la situazione se viene fuori tutta la situazione qua salta tutto per cui ecco perché si stava operando in funzione di bloccare la collaborazione di Saro Mammoliti perché temevano che tutti questi argomenti venissero a galla e venisse a galla il fatto che l'Andrangheta era coinvolta anche nel rapimento Moro quello lui lo contestualizzò quel discorso del fungo lo contestualizzava proprio in questo argomento perché dice se Saro Mammoliti racconta la vera situazione di di quel periodo che si operava su Roma e per quale motivi si operava su Roma viene fuori tutta la verità e dice possiamo fare le valici e andare via tutti quindi loro si attivavano tramite Mico Rugolo che è il cognato di Nino Mammoliti tramite i figli di Saro Mammoliti perché c'era un paio pieni di imbasciate contro imbasciate perché non avevano un riferimento specifico di quale fossero tutti gli argomenti che Saro Mammoliti stava ponendo in esse durante il periodo della collaborazione e questo io l'ho vissuto personalmente questa fase qui quindi Teodoro crea che in quel momento anche preso da un sentimento di grande stress di grande preoccupazione si apre su questo argomento qui non so se ho reso bene diciamo si 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 ora reso bene lei se lo ricorda quando risale l'incontro del fungo il summit del fungo lei ricorda quando è avvenuto mi pare che nella prima metà degli anni settanta il summit del fungo lei in questa lettera lo indica settantasei settantasette si ma non ho una data precisa procuratore non è che lui Teodoro crea disse la data precisa la data precisa gliela dico io diciotto ottobre millenovecentosettantacinque perfetto e se è così confermo questo procuratore e quindi il diciotto ottobre del millenovecentosettantacinque per quello che lei apprende da Teodoro Crea e da Mico Rugolo c'era anche Mico Rugolo si parlava già di rapire Moro e lui in questo senso si lamentava nei confronti di di Saruman Mammoliti e di Mico Rugolo sapeva dice tu hai contatti con tu Saruman Mammoliti riferito a Saruman Mammoliti tu hai contatti con i servizi segreti tu sapevi tu hai conoscenza e tu Nino Mammoliti tu Mico Rugolo lo sapevi pure perché la situazione adesso sta sfuggendo di mani che cosa sta succedendo mi dovete parlare chiaro perché qua saltiamo tutti la questione tu la conosci bene Mico Rugolo riferito a Mico Rugolo no tu Mico la questione la conosci molto bene qui bisogna intervenire con misure precise quindi Sessaro Mammoliti riferisce questa situazione qui noi siamo rovinati tutta l'andrangheta è rovinata ho capito cioè quindi era questo il contenuto del loro discorso sì perché poi Teodoro Crea dice io ho preso le difese della famiglia Mammoliti voi mi combinate questa questa gaffe enorme qui la nave si affonda affonda tutta e si trascina perché poniamo che altri collaboratori che sanno queste cose viene fuori tutto quanto qua siamo rovinati questo contestava a Mico Rugolo e Mico Rugolo quasi si metteva a piangere era disperato sulla situazione tant'è vero che poi ci distaccammo dalla famiglia Rugolo e i piani erano per intervenire a bloccare la collaborazione di Saro Mammoliti si dovevano uccidere i figli di Saro Mammoliti Francesco Mammoliti e lui aveva affidato a me Teodoro Crea questo compito a me a suo figlio Giuseppe e ai suoi parenti più intimi lui ha giurato ha fatto un giuramento sul suo nipote il figlio di suo figlio Giuseppe ha giurato sulla sua testa che si vendicava contro la famiglia Mammoliti poi è avvenuta la mia collaborazione procuratore poi non so se ci sono stati accordi o meno io ho collaborato ho riferito tutto quello che è il mio possesso in merito a queste circostanze è stato chiaro Bruzzese è chiaro andiamo avanti e torniamo un attimo all'incontro a cui lei assiste all'interno della proprietà di Peppe Piccolo perché lei nella missiva precisa il giorno in cui questo incontro sarebbe avvenuto sì era una domenica mattina e perché ha questo ricordo così netto perché chi mi ha accompagnato lavorava aveva una responsabilità di autista e in quel periodo i camion di domenica non potevano circolare di domenica gli autisti non lavoravano non mi poteva accompagnare se non era giornata feriale diciamo giornata di festiva quindi il dato è ben preciso me lo ricordo ben preciso che era la giornata di domenica perché Presidente non può Presidente le chiedo perdono non riusciamo a sentire bene se può fargli ripetere più lettamente noi non sentiamo dietro le chiedo perdono Presidente Bruzzese se parla un po' più piano è un po' più forte e può ripetere quello ripeto proprio la domanda mi pare sì se siete d'accordo come mai lei ricorda con precisione che quel giorno fosse domenica la persona che mi accompagnò lì alla proprietà di Peppe Piccolo che io indico lavorava come autista di camion ripeta il nome della persona che l'accompagnò ripeta anche il nome della persona che l'accompagnò no questo non lo faccio procuratore perché la persona che mi ha accompagnato è sul territorio di Rizzigoni quindi ribadisce di non voler fare questo nome certo procuratore non lo faccio per questo motivo per l'ingolumità della persona se io dico chi è la persona verrà uccisa immediatamente perché è l'unico testimone rimasto in vita di quell'evento perché mio padre è morto Peppe Pieromalle è morto tutti gli altri sono morti e quindi l'unico che sono io è questa persona qui muore lui perdiamo un altro testimone ma non è questo e il punto è che si perde una vita umana innocente io non me la sento vada avanti ha ribadito le ragioni che già aveva evidenziato in precedenza mi ha accompagnato con la sua autovettura lì sul posto lasciamo l'autovettura in mezzo all'arrum e ci la chiamiamo a piedi lì nel luogo dell'appuntamento ma io qui voglio precisare alcune cose che non ho precisato nel giorno in cui ho reso le dichiarazioni aspetti Bruzzese prima di fare questo la domanda del procuratore generale era come mai lei ricordava che questo fatto fosse accaduto di domenica e lei stava dicendo che era stato accompagnato da un soggetto che era un autista e da quello che ho capito io non avrebbe potuto accompagnarli in giorni diversi dalla domenica sì in giorni feriali sì in questo senso qui presidente lui solo la domenica aveva libera perché gli altri giorni lavorava era un dipendente però mi pare mi pare che prima lei diceva che c'era un divieto perché questo era autista di camion e questo aspetto che io non ho capito no mi sono espresso male presidente non era un divieto non volevo dire divieto volevo dire la domenica lui non lavorava perché lavorava come dipendente per cui il giorno libero suo era la domenica va bene ora mi pare chiaro se vuole continuare lavorava come dipendente cioè come conducente di automezzi autista bene quindi l'unico giorno libero era la domenica perché quel giorno gli automezzi pesanti non possono circolare sì sì bene stava dicendo che ha ricordato altri particolari quali bene Peppe Piccolo ha più appezzamenti di terreno lungo la fiumara di Bacale e questi Peppe Piccolo premetto che non era sposato ma aveva un fratello che si chiamava Cesare Cesare era sposato e aveva dei figli le proprietà di Peppe Piccolo quelle che sono andate in eredità ai figli di ai nipoti di Peppe Piccolo ai figli di Cesare sono lungo la fiumara da diciamo dal ponte di Bacale al lato Polistena a scendere in giù fino alla contrada dove è stato trovato ucciso Peppe Piccolo io avevo fatto uno schizzo di mio pugno e l'avevo portato qui se fosse possibile la corte se lo voleva acquisire io indico nel dettaglio ho fatto un disegnino nel dettaglio com'è la proprietà non lo so se se in qualche modo lo facciamo acquisire da chi è lì presente lei lo sottoscrive ci mette la data e ci verrà trasmesso perché è importante questo schizzo perché ci sono tutti i dettagli tutti i punti di riferimento compresi i pozzi che ci sono nelle proprietà di Peppe Piccolo nella proprietà di Franco Pombino e nella proprietà di Calone mi perdoni un attimino che firmo per cortesia il documento mi perdoni il fatto che lei conosca nel dettaglio le proprietà di Peppe Piccolo quale rilievo ha in merito all'incontro con Craxi e Berlusconi i rilievi sono questi non è che quando è arrivato Craxi e Berlusconi è arrivato il corteo che fanno in genere quando i politici arrivano in una manifestazione lì è arrivato con i nuovi gemmi è arrivata una macchina di battistrada e una macchina che portava le due persone e sono state lasciate perché la rilevanza mi può passare e poi così ce l'ho davanti per cortesia è che Peppe Piccolo alla contrada dove è stato trovato cadavere aveva una casa ma quella proprietà lui l'acquisì successivamente all'incontro di cui io parlo l'acquisì nel fine anni 80 se non ricordo male ma lui aveva l'abitazione di suo papà che era 300 metri circa più avanti della contrada colù salendo verso la montagna ed è una casa con due stanze dove dietro c'aveva la porcelaia c'aveva il fienile c'aveva la cantina dove teniva il pino e tutto quanto le macchine sono rimaste lì alla casa di Francesco Piccolo che era custodita da un cancello di color arancione arancione rosso se non ricordo male poi da lì sono sono venute a piedi attraversando la proprietà che andava verso Calù ma non sono arrivati a Calù si sono fermati al centro della proprietà sotto il limite della località Vittoria della proprietà del Duca vicino alla proprietà dell'avvocato Franco Bombino questi sono gli argomenti rilevanti perché se mi è stata posta la domanda dalla parte degli avvocati della difesa è arrivato con la macchina no sono arrivati a piedi perché attraverso gli agrometi con la macchina non si poteva entrare perché nel sesto a stella nel sesto degli aglumi che sono diciamo piantumati in quella proprietà al tempo adesso io non so com'è questa proprietà anche si poteva entrare con le macchine e arrivare fino a lì nella maniera più assoluta quindi sono arrivati a piedi è chiaro altri particolari su quell'incontro altri particolari non ancora riferiti ovviamente no al momento no al momento no mi chiarisca però un passaggio che ritengo di particolare rilievo lei rispondendo alle nostre domande nelle precedenti udienze in cui è stato ascoltato ha dato una spiegazione rispetto diciamo all'oggetto affrontato nel corso da quell'incontro tra i vertici dell'Andrangheta e Craxi e Berlusconi è così? sì l'oggetto era il porto di Piegatauro nel centro siderurgico e la diciamo l'argomento nodale di quell'incontro era che si si doveva diciamo a Roma il centro Italia doveva riversare somme abbastanza notevole affinché si avviasse diciamo il progetto del quinto centro siderurgico che poi non è stato realizzato è stato realizzato il porto di Gioiettauro ma lì c'era da contestualizzare la spartizione gli argomenti diciamo di chi doveva le ditte che dovevano lavorare che non dovevano lavorare come dovevano essere divisi i soldi che percentuale andava all'andrangheta che percentuale andava alle ditte questo era l'argomento nodale il centro il centro siderurgico di quell'incontro poi c'era il discorso delle antenne e della televisione di Berlusconi che dovevano essere installate diciamo sul territorio reggino sul territorio cosentino e sul territorio siciliano anche gli argomenti erano questi lei ci ha indicato come argomento anche il fatto che Craxi avesse in mente di lanciare politicamente Berlusconi sì anche quello in virtù di una futura candidatura di Silvio Berlusconi che poi mi pare che io ho già fatto un percorso storico degli anni 90 in poi diciamo quando sì 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 io sto cercando di sintetizzare alla luce diciamo di quello che lei scrive in questa missiva quelli che sono i temi che lei ha appreso da suo padre e quindi affrontati nel corso di quell'incontro ora a questi temi quindi che lei ci conferma sì 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 lei assolutamente sì conferma lei aggiunge lei aggiunge oggi anche il tema Moro sì conferma è in grado ora di fare una ricostruzione complessiva quindi delle tematiche affrontate in questo presunto summit in questo presunto incontro nel terreno di Peppe Piccolo il Moro era morto procuratore e quindi se Moro era morto perché si parlava ancora di Moro lì in quel ma io non ho assistito al procuratore io non ho assistito all'argomento io ho acquisito conoscenza attraverso quello che mi ha riferito Teodoro Crea quello che mi ha riferito il mio padre benissimo allora forse forse è meglio che io sintetizzi o meglio espliciti meglio la mia domanda lei nel verbale del 2004 riferisce in relazione all'incontro con Craxi dicendo che in quell'incontro si era parlato della liberazione di Moro va bene oggi lei ci precisa che non era quello l'argomento perché Moro era già morto è così? sì procuratore è così quindi c'è da precisare ulteriormente in quell'incontro con Craxi e Berlusconi si parlò di Moro o no? no di Moro di Moro parlarono successivamente mio padre e Teodoro Crea in merito alla critica che sollevavano nei confronti di Peppe Pieromalli ho capito questo l'ho capito però mi deve seguire noi abbiamo qui di fronte un suo verbale del 23 marzo 2004 in cui lei testualmente dice sono quello credo di essere in grado di dire perché è venuto Craxi in quel periodo lì per incontrarsi diciamo con questi esponenti indranghetisti le chiede il pubblico ministero per quale motivo me lo dico a subito e lei risponde per trattare la liberazione di Moro quindi due sono le cose o ci sono stati più incontri con Craxi con oggetto diverso oppure in quell'incontro mi è parlato anche di questo per quello che lei riferisce nel 2004 quindi ora le chiedo è corretto quanto verbalizzato nel 2004 in relazione al suo ricordo o la vicenda Moro non c'entra niente con l'incontro con Craxi e Berlusconi no non c'entra niente lì con quell'argomento non c'entra niente no proposto no e perché nel 2004 lei ha questa indicazione ce lo faccia capire l'avevo apprisita io l'indicazione procuratore datelo d'oro crede a mio padre ma ma non ha niente a che vedere con Craxi e Berlusconi perché questo argomento no questo argomento non era contestualizzato a dire loro di quel giorno lì ma anticipato era avvenuto prima mentre Moro era ancora oggetto di sequestro non era stato ucciso questa è una fase in anticipo non contestualizzata successivamente alla morte di Moro in quel incontro lì e quindi mi faccia capire ancora meglio quindi il contatto con l'andrangheta al fine di liberare Moro per quello che le raccontarono è avvenuto sì sì ma non ha niente a che vedere ma doveva creare il nuovo soggetto politico procuratore come? si doveva creare il nuovo soggetto politico che era stato individuato in Bettino Cracisi bene quindi l'interessamento dell'andrangheta era stato chiesto lei lo apprende nel corso dell'incontro che ci racconta oggi con Crea e suo padre ma non ha niente a che vedere sì invece l'altro episodio che avviene nel territorio di Peppe Piccolo nel terreno di Peppe Piccolo sono due episodi separati distaccati procuratori quell'incontro lì nella proprietà di Peppe Piccolo era contestualizzato al nuovo soggetto politico in virtù della morte di Aldomoro perché secondo il loro narrato si era ben capito che l'ADC era ormai al declino al collasso totale per cui c'era bisogno in Italia che nascesse il nuovo soggetto politico è individuato nel partito socialista nel partito di Bettino Cracchisi per cui Bettino Cracchisi in quell'incontro per come ha contestualizzato i due Teodoro Crea e mio padre era per il sostegno politico per i voti affinché il partito di Bettino Cracchisi avesse il massimo appoggio dalla parte della mafia e dalla parte dell'andrangheta e quindi gli interessi sul porto di Gioia Tauro lì sul quinto centro del suo siderurgico se non c'era il nuovo soggetto politico venivano a decadere per cui tutti gli interessi di tutta l'andrangheta non solo della famiglia Piromalli ma della famiglia Molè della famiglia Mancuso della famiglia Pesci e via di seguito fino al reggio Calabria gli interessi erano anche in virtù di quello che potevano essere gli interessi della Sicilia della mafia perché anche la mafia aveva un ruolo in questo sviluppo in questo rilancio della crescita del sud della regione Calabria e della regione Sicilia quindi loro concentravano il loro diciamo argomento il loro narrato su questa fase qui su questi argomenti qui non so se sono chiaro ora è stato chiaro Bruzzese come sono stato chiaro io nel richiamare una serie di dichiarazioni che andavano approfondite va bene sì sì senta torniamo al discorso doppia affiliazione gli unici soggetti che lei diciamo ha in qualche modo sentito nominare in relazione a questa doppia affiliazione sono quelli che ha già indicato oggi sì me li può rielencare Paolo De Stefano Peppe Peromalli Momo Peromalli Nino Pesci Nino Mammoliti Luigi Mancuso e poi non non so se prima ha indicato anche Pino Peromalli sì Pino Peromalli facciazza sì sono solo questi allora i due fratelli Momo e Peppe Peromalli il nipote Pino Peromalli Luigi Mancuso aspetta mi pare ci fosse anche Nino Mollet con doppia affiliazione si aspetti procuratore mi mi viene in mente anche Nino Mollet che è il padre di Momo Mollet che aveva la doppia affiliazione e mi pare se Nino 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 Gangemi mi pare che ci avesse anche la sì sì ha la doppia affiliazione anche Nino Aveva perché adesso non ci più ho capito male prima ho fatto riferimento anche agli Alvaro sì sì che vuol dire che ho capito male o ho capito bene no che anche mi pare che il domenico Alvaro ha detto Scaduni avesse la doppia affiliazione anche lui questo sono in grado di confermarlo perché me l'ha detto anche suo figlio durante il nostro periodo di latitanza incontrata Melia e alle serre dove lavoravano i suoi cugini cioè dove c'era il fatto che lei stia facendo riferimento sostanzialmente in via quasi esclusiva a soggetti dell'area tirrenica è legato al fatto che lei proviene da quell'area o c'è un motivo diverso no io provengo da lì da quel contesto lì procuratore io sono nato e cresciuto fino all'età di 40 anni fino al giorno della mia collaborazione diciamo da quando io mi sono costituito vengo da quel contesto sono nato in quel contesto e quindi lei conosce soprattutto quel contesto sì e questo è il motivo perché lei parla quasi esclusivamente di soggetti tirrenici sì procuratore sì però sapevo anche che la parte della Ionica le famiglie della Ionica erano legate alle famiglie della parte tirrenica ovvero i nirta i commisso gli strangio i morabito e via via di seguito quelle famiglie lì su quel ramo lì Barbaro erano tutti legati perché procuratore io vi confermo che l'andrangheta è un corpo unitario non è Mico Oppidisano era il capo crimine l'andrangheta è il crimine questo è il crimine è un regolatore è come il sale nel lievito diciamo è lo stabilizzatore sì delle regole dell'andrangheta però questo è quello che si conosce diciamo che oggettivamente oggi è a conoscenza di tutti quanti però io per esempio so bene che c'è cosa nuova e c'era cosa nuova e c'era il terzo livello però non è che so indicare i soggetti che erano precisamente al terzo livello e in cosa nuova si argomentò ma in maniera molto distretta con Cosimo Alvaro di questo fatto qui che lui voleva lui ambiva al Mamma Santissima che era un grado più alto del medaglione del diritto al medaglione e lui ambiva al Mamma Santissima per arrivare non so dove lui mi confidò in un certo senso il terzo livello è la cosa nuova però poi non furono argomenti approfonditi però ho capito la mia esigenza io la ringrazio di questa precisazione ma la mia esigenza non era questa era quella di comprendere se lei non parla di soggetti ionici con la doppia affiliazione perché lei di ionica sa poco sì 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 esatto il procuratore non so molte cose io e quindi nessuno le fece nomi dei grandi capi dell'area ionica in relazione alla doppia affiliazione è così? ah io so che Peppe Nirta quello che chiamavano Dunasi era molto amico di Nino Mammolite e di Peppe Peromalle e questo Bruzzese però io non le ho chiesto di amicizie quindi lei ascolti la mia domanda lei ha fatto un elenco ben preciso di soggetti a cui attribuisce la doppia affiliazione domanda lei conosce soggetti ionici che avevano la doppia affiliazione cioè questi nomi le sono stati mai fatti? no procuratore no era questa la mia esigenza mi pare evidente no? come mai tra i soggetti che lei conosce come dotati di questo doppio incarico lei inserisce Paolo De Stefano pur non essendo tirrenico perché Paolo De Stefano la doppia affiliazione me l'aveva confermata Cosimo Alvaro perché Cosimo Alvaro era molto la famiglia Alvaro era molto amico dei De Stefano come lo era con Pasquale Condello Cosimo Alvaro era molto amico dei due figli di Paolo De Stefano ma era molto amico Teodoro Crea con Paolo De Stefano Paolo De Stefano era vicinissimo alla cosca Peromalle ma io l'ho conosciuto personalmente mi sono recato durante la sua latitanza insieme a Guirina Vignoni da Paolo De Stefano mi sono recato anche quando Razio De Stefano era latitante con qui c'era al tempo insieme a me c'era il cognato di Teodoro Crea tale Mimmo Bruzzi ci fu un omicidio che era di un elemento vicinissimo a Paolo De Stefano e Teodoro Crea dal carcere mandò a dire di metterci a disposizione della famiglia De Stefano ma di metterci a disposizione con le armi non solo così e mandò suo cognato lì e la mia persona e parlavamo direttamente con Orazio Orazio De Stefano quindi io le sto dicendo che eravamo molto vicini alla famiglia De Stefano perfetto questa è la ragione per cui lei è in grado di inserire Paolo De Stefano nei soggetti con doppia affiliazione ulteriori soggetti legati all'andrangheta cittadina cioè riferibili alla città di Reggio Calabria lei ne ha da inserire tra i doppi affiliati per quel però qui non ho un dato di fatto diciamo concreto qui è una mia supposizione ma non vale e lascia lascia il tempo che trova lascia il tempo che trova lascia il tempo che trova quindi possiamo anche evitarla senta mi spiega meglio questo grado di mamma santissima che cos'è era un grado più elevato rispetto al diritto del medaglione per quello che mi ricordo io tre elementi ce l'avevano al tempo diciamo degli anni ottanta i primi anni ottanta diciamo no aspetti i primi anni 90 ce l'aveva il doppio il medaglione ce l'aveva Pino Peromalli Nino Pesce Luigi Mancuso e Pasquale Zagari questi quattro elementi avevano il doppio il medaglione e e in virtù del fatto che si era scoperta ecco qual era l'argomento tra me e cose malvare che si era scoperto il fatto del doppio medaglione l'andrangheta voleva aprire un grado più elevato molto più ristretto affinché non venisse diciamo scoperto in eventuali collaboratori e si parlava di questo grado e voleva essere lui uno dei Mamma Santissima questo era l'argomento però nello specifico della fattispecie del Mamma Santissima quali diciamo quale può essere la sua forza io non lo so dire non lo so non lo so non ho acquisito questa conoscenza l'unico dato che l'hai acquisito è che c'era un grado superiore al diritto del medaglione che chiamavano Mamma Santissima è così? c'era la necessità di avere un qualcosa in più sì era una necessità dalla parte dell'Andrangheta bene andiamo avanti lei a un certo punto nella missiva fa riferimento al figlio di Rocco Santo Filippone sì procuratore perché? perché nel periodo della mia latitanza ricordiamo 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 ancora una volta il periodo della sua latitanza 1995 2003 sì prego venne a trovarmi bene veniva tutte le sere ci incontravamo nei pressi della proprietà della signorina Cordopatri di Polistena aveva una proprietà aveva più proprietà in Rizzigoni sul territorio di Rizzigoni una di queste proprietà vicina a Contrada Vennarella era coltivata a vigna e la sera ci incontravamo lì nella vigna e Tony Crea del Tutonutoba cugino di Deodoro Crea mi disse che c'era la possibilità di acquistare delle armi si trattava di due fucili a pompa calibro 12 davvero abbiamo a volte a volte facciamo fatica a capire quello che dice quindi parli un po' più lentamente non so a che distanza si trova dal microfono perché se no io ho capito che ci fu la necessità di acquistare delle armi sì due fucili si incontrava con il figlio di Filippone in questo posto no no perché non si è capito appunto ci vedevamo là ma non si è capito quindi lei ha detto che frequentava la zona di Polistena dove incontrava una persona ci può dire con più chiarezza chi incontrava Antonio Crea dall'alias Antonio Utopa benissimo ad un certo punto Antonio Crea le dice che era necessario acquistare delle armi no che c'era l'occasione di acquistare delle armi bene e si trattava di due fucili a pompa calibro 12 sì quindi e io gli disse va bene prendiamoli il costo era un milione di vecchie lire a fucile e gli ho detto vabbè tanto servono possono servire prendiamoli d'accordo da chi arrivano gli ho detto io chi te li te li dà dice me li dà tale Nino Predoti che sarebbe il genero di Rocco Luca e il figlio di tale Rocco Luca Giuseppe Luca che era molto legato molto amico del figlio di Rocco Santi Filipponi questo è quanto mi ha riferito Antonio Crea e gli ho detto va bene acquistale e di fatti sono state acquistate queste due armi questi due fucili uno di questi due fucili io l'ho consegnato al capitano Cagnazzo la mattina dopo del 2003 quando io mi sono costituito del 20 ottobre il 21 ottobre io consegnai tutte queste armi che io avevo tra cui questo fucile un AK-47 fucili di precisione insomma tutto quello che era elencato nel rapporto dei carabinieri d'Aurianova invece quello che era di Crea Antonio lì di Antonitopa fu rinvenuto in una diciamo rastrellazione in una perquisizione tra il marcello la domanda che lei aveva formulato al collaboratore era di darci contezza di suoi rapporti se non ricordo male perché ci fa perdere il filo anche della domanda che lei formula lo sto facendo completare con il figlio di Filippone e allora questo ci deve riferire se no staremo altre giornate qua e poi comunque fatti nuovi rispetto a quelli che ci ha già raccontato e di cui lui ha questa missiva se no non usciamo fuori ma sta completando il racconto sulle armi mi pare di capire va bene però teniamo questo fino a quando parla di armi mi interessa capire da chi le ha comprate poi vediamo se c'è stato un ruolo ben preciso ha capito Bruzzese? sì era una fonte di approvvigionamento io la sintetizzo così sì ma lei ha acquistato armi direttamente dal figlio di Rocco Santo Filippone o da soggetti che le avevano comprate da lui o no? le ha acquistate di Antone Crea io attraverso Antone Crea le ho acquistate Antone Crea mi ha specificato che gli vendeva queste armi e quindi Antonio Crea aveva acquistato armi dal figlio di Rocco Santo Filippone attraverso Antone Crea forse non sono chiaro Antonio Crea aveva acquistato quindi armi dal figlio di Rocco Santo Filippone sì sì e quali armi i due fucili a pompa di cui vi parlo io benissimo lei in questa lei in questa missiva però dice che il figlio di Rocco Santo Filippone aveva commercializzato molte armi nel Regino sì per quello che mi ha riferito Antone Crea e che cosa le ha riferito quindi sull'attività che svolgeva il figlio di Filippone che più cosche avevano acquistato armi dal figlio di Filippone anzi io entro però non posso entrare ad aprire altro argomento perché mi pare che devo sintetizzare quindi questo è tutto questo mi scusi guardi lei non è che non può aprire altri argomenti devono essere argomenti funzionali a spiegare il ruolo di mercante di armi di Filippone non so se sono chiaro sì il procuratore è stato chiarissimo la mercanzia delle armi avveniva attraverso il figlio di Rocco Santi Filippone quale altre armi le è stato riferito siano state commercializzate dal figlio di Rocco Santo Filippone chiedo scusa io fino ad ora non sono intervenuto la domanda non può essere posta le risulta che altre armi no l'ha già detto avvocato mi sa che era distratto lei no no non sono distratto no 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 era molto distratto invece perché l'ha detto almeno un paio di volte c'è opposizione l'ha decida presidente grazie va bene l'ha detto già un paio di volte che il figlio di Rocco Santo Filippone vendeva armi a molta gente quindi la domanda è a specificazione di quello che ha già detto pubblico ministero il presidente l'ha decida se mi consentite oltre a quell'episodio quindi stiamo concentrati su quello che dice il collaboratore di giustizia oltre a quell'episodio che lei ci ha riferito e a conoscenza di altri episodi in cui il figlio di Filippone si sarebbe occupato comunque di commercializzare delle armi ma episodi concreti ne ha conoscenza sì sì presidente si approvvigiava l'approvvigionamento dal Filippone veniva anche fatto attraverso Salvatore Mamone e dall'alias Salvatore Uzzas Salvatore Mamone aveva un negozio di di tendaggi a Polistena e questo Salvatore Mamone acquisiva armi direttamente dal Filippone dal figlio di Filippone ma io non conosco il figlio di Filippone questo lo devo precisare quindi il Mamone era un'altra fonte di approvvigionamento che poi in più diciamo famiglie queste armi venivano in più famiglie d'indrangheta attenzione venivano vendute per quel che mi risulta a me l'approvvigionamento aspetti un attimo come è conoscenza di questa notizia che ci ha fornito lei ora cioè questo è perché io conoscevo il Salvatore Mamone eh sì lo conoscevo il Salvatore Mamone era affiliato alla cosca di Guerina Vignone era un affiliato di Guerina Vignone alla famiglia Vignone quindi io tutto tutto questo discorso qui è che lo so direttamente perché Guerina Vignone mi ha confidato il fatto che Salvatore Mamone era stato affiliato e che lui era fonte di approvvigionamento anche dalla famiglia Vignone di queste armi sì quindi le fonti di conoscenza sono Antonio Crea e Guerino Vignone sì sì la mia domanda era ancora più specifica che tipo di armi AK-47 fucili calibro 12 a pompa pistole automatiche di vario calibro dalle 9x21 alla 7x65 pistole tipo Magnum e altre armi fucili di precisione qualcuno le ha mai riferito dove il figlio di Rocco Santo Filippone prendesse le armi sì procuratore e ce lo dica perché siamo qui per ascoltare questo benissimo io ero amico di Girolamo Raso cosca albanese raso di Cittanova Girolamo Raso aveva un affiliato della Sacra Corona Unita lui era il padrino di Corrado Cucurachi tale Corrado Cucurachi è della Sacra Corona Unita leccese Corrado Cucurachi aveva un'amicizia con un certo Alcan Balcani io parlo di un soggetto vicino a Milosevic e Corrado Cucurachi Corrado Cucurachi aveva aperto questo canale di approvvigionamento di armi attraverso Mon Moraso arrivavano queste armi nella piana di Gioia Tauro il canale lo aveva aperto Corrado Cucurachi direttamente con Alcan ma che io ho conosciuto questo soggetto non l'ho mai conosciuto nell'uno nell'altro è il riferimento di Mon Moraso che io ho avuto perché quindi attraverso questo canale arrivavano alcune armi a Filippone attraverso il canale di Otranto sotto dominio diciamo a quel tempo della Sacra Corona Unita e questo questo già nasce questo dato di fatto oggettivamente nasce praticamente io accompagnavo Girolamo Mammoliti che era soggetto sottoposto a firma e doveva firmare alla caserma di Cittanova Girolamo Mammoliti era affiliato alla cosca di Teodoro Crea a Bruzzese Domenico e eravamo molto amici con Mon Moraso spesso ci siamo fermati a casa di Mon Moraso a mangiare siccome Girolamo Mammoliti non aveva la patente lo accompagnavo io con la sua auto A112 Abarth blindata corazzata che si trova si trovava almeno dentro il garage del laboratorio dove abitava mia mamma praticamente è stata costruita lì la macchina dopo la morte di Girolamo Mammoliti perché l'avevo acquistata io la macchina direttamente da suo cognato Iamundo Leonardo e Girolamo Moraso in quell'occasione che ci fermammo lì a mangiare a casa sua poi ci disse e ci volete acquistare due K47 e poi entrammo in argomento e fu Mon Moraso che ci confidò questa situazione perché Mammoliti gli disse ma scusa ma la K47 tu com'è che puoi avere in possesso mi stai prendendo per i fondelli e si no te li faccio vedere ci recammo nei prezzi della Fiumara e lì lui fece vedere questi due fucili mitragliatori a K47 quindi poi si entrò nell'argomento nello specifico dell'argomento rientrò questo questo canale di approvvigionamento attraverso l'Albania attraverso il canale questo è però so che Mon Moraso aveva anche l'amicizia con Rocco Santo Filipponi e sicuramente per quello che mi ha detto Guerino Avignoni il il Salvatore Mamone l'approvvigionamento lo acquisiva anche dal figlio di Rocco Santo Filipponi è stato chiaro questo so e questo sto riferendo è stato chiaro senta lei in relazione poi a Guerino Avignone fa anche riferimento in questa missiva a materiale esplodente a esplosivo di vario genere io faccio riferimento a Dinamite di Cava che praticamente Guerino Avignone gli era arrivata l'ambasciata della carcere di suo padre suo fratello o lui direttamente adesso precisarlo questo non me lo ricordo di di recarsi all'invadi nella a trovare un cugino cugino zio quello che era di 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 Peppe Mancuso di Peppe Embroglia mi pare che al tempo Peppe Embroglia fosse detenuto sto parlando degli anni 83 se non ricordo male comunque vi do dati più precisi praticamente ci recammò nelle campagne di Limbadi in una proprietà e sostammo in quella proprietà di campagna nei pressi di un casolare c'era anche una porcilaia per quello che mi ricordo e Guerino Avignone gli chiese a questo soggetto se aveva questo materiale che gli era stato richiesto si trattava di circa 10 chili di dinamite di cava 30 detonatori e 100 metri di miccia a lenta combustione di colore amaranto mi pare fosse la miccia rosso amaranto giù di lì e ci prendemmo questo materiale e ce ne tornammo a Cittanova perché vi serviva questo esplosivo? questo esplosivo fu ci furono più attentati infatti uno in danno a tale Scionti elettrauto di Taurianova per ordine di Mimmo Giovinazzo l'ordigno l'ho collocato direttamente io davanti alla saracinesca dell'officina di Scionti e l'ordigno mi fu consegnato da tale Filippo Petullà cognato di Mimmo Giovinazzo e mi disse lo devi collocare dopo che c'è il controllo dei carabinieri perché di là vedi che passa una pattuglia dei carabinieri infatti io dopo che sono passati i carabinieri mezz'oretta dopo tre quarti d'ora dopo adesso io questo non lo so precisare collocai l'ordigno accesi la miccia e me ne andai il secondo ordigno sempre da parte dei Petullà mi pare che quello me lo consegnò Meme Petullà persona vicina e comunque c'era anche Ceceo Filippo Petullà ora precisare non mi ricordo bene ma uno dei due c'era o Filippo Ceceo senta ma quella è l'unica l'unica occasione in cui lei compra esplosivo dei Mancuso no non fu comprato attenzione gli fu consegnato senza comprare era un favore che Peppe Mancuso faceva a Peppa Vignone a Mimmo Giovinazzo e praticamente il secondo ordigno fu collocato sopra la finestra della casa dove abitava tale Zavagli dove aveva Zavaglia aveva un marmificio va bene mi senta mi ascolti Bruzzese mi ascolti mi ascolti mi ascolti mi ascolti mi ascolti mi serve soltanto un ulteriore dato diciamo in relazione a questo specifico tema questo esplosivo era esclusivamente riferibile a Mancuso o ad altre cosche di Indrangheta noi ci recamo lì da questo parente di Peppe Mancuso che era praticamente lui Guerino Avignone mi disse mi indicò in oggetto la cava di Limbadi la cava di Limbadi è Limbadi decade nel territorio dei Mancuso come dominio di Indrangheta e questo materiale esplodente lo adoperavano nella diciamo nella spaccatura del granito della roccia volevo però capire una cosa prima di proseguire che c'entra anche in relazione all'esplosivo il figlio di Filippone no 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 non mi pare che abbia detto io non ho detto Filippone no lo so ma vorrei capire cioè ci deve raccontare tutti i fatti questo argomento non ha a che fare con il figlio di Filippone ma lo intuivo io per questo faccio la domanda non è che se non è strettamente necessario a quella domanda iniziale perché se risponde alla domanda che io gli ho appena posto voglio dire ha a che fare con il tema del processo se giriamo intorno ovviamente no quindi la mia domanda aveva un senso e le ho chiesto le ho chiesto Bruzzese l'esplosivo di cui lei sta parlando era esclusivamente nella disponibilità dei Mancuso o di altre famiglie di Indrangheta se era nella disponibilità dei Mancuso era anche nella disponibilità di altre famiglie di Indrangheta ovvero nella famiglia Piromalli perché? perché questo automatismo perché se ce l'avevano i Mancuso ce l'avevano anche i Piromalli ascolti le mie domande per cortesia Sì procuratore Luigi Mancuso Peppe Mancuso era molto amico di Peppe Piromalli la cava la cava era esclusivamente di queste famiglie di Peppe Piromalli degli Avignoni parteciparono tutti a quel progetto della cava e la famiglia Mancuso che si approvvige come dire acquisiva questo materiale esplodente lo acquisiva da lì ma però era nella disponibilità di tutte le altre famiglie non era in vendita lei però in questa missiva lei in questa missiva fa un richiamo specifico e dice che il tritolo era nella disponibilità dei Mancuso Trattino Piromalli perché questa indicazione così secca? perché è un dato di fatto che io ho acquisito e nella mia conoscenza io dico quindi la disponibilità di tritolo era riferibile congiuntamente ai Mancuso Piromalli questo è quello che lei ha acquisito sì sì assolutamente sì Guerino Vignone si poteva recare presso la famiglia Piromalli però c'è stato dato un ordine specifico direttamente da Mimmo Giovinazzo da Peppe Vignone benissimo e di andare da Imancuso io cerco di comprendere io cerco di comprendere perché lei fa riferimento seccamente a queste due famiglie abbinandole e non ad altri ha capito? e parto da quello che lei rappresenta nella missiva ultimo argomento Bruzzese ultimo argomento lei qui comunica di aver riportato erroneamente alcuni riferimenti relativi alle condanne che lei ha subito sì e voglio precisare che io non ho ricevuto condanna per 416 bis perché qualcuno voglio dire le ha attribuito condanne che lei non ha subito mi sembra che l'avvocato come si chiama quello di Cittanova contestabile mi pare che mi ha contestabile mi ha posto la domanda se io ho subito condanna per 416 bis e lei che cosa aveva risposto di sì mi sembra di aver risposto di sì ma io non ho subito condanna per 416 bis benissimo quindi è questa la precisazione che voleva fare sì va bene la ringrazio io ho concluso prego le altre parti se hanno domande da formulare solo qualche domanda se me lo permette presidente prego avvocato staiano mi facolta stare seduto presidente certo grazie signor Bruzzese buongiorno sono Salvatore staiano buongiorno ho letto anch'io la sua lettera lei ha parlato di una situazione di stress ha dato una spiegazione precisa in afferenza ad alcune sue omissioni omissioni nel senso che non ha dichiarato alcune cose o in riferimento ad alcune confusioni ma il suo contresame lei ha avuto la possibilità di leggerlo quale contresame mi scusi lei ha subito il contresame ne ha parlato poc'anzi dell'avvocato contestabile e proprio in relazione ad alcune domande dell'avvocato contestabile lei dice e scrive in questa lettera quindi la mia domanda è lei ha letto il contresame che le ha fatto l'avvocato contestabile no no e se era in una situazione di stress non è polemica la domanda è una situazione di grande confusione come mai ha ricordato dei fatti specifici degli interrogativi specifici cui era stato sottoposto dandone risposta in questa missiva io non ho parlato di grande confusione avvocato io ho parlato di una situazione di stress fisico e di uno sta male sta male no? fisicamente e quindi la grande confusione io non l'ho detto questa parola mi pare che non l'ho detto verosimilmente sono stato improprio nel riassumere ma da quello che si ricava dalla prima pagina della sua lettera e che lei per una situazione di stress non è riuscito a rispondere io mi sono consentito di dire riassumendo e verosimilmente sbagliando che era in una situazione quindi di confusione altrimenti non so darmi una spiegazione di questo suo stato di malessere che ha ripercorso vabbè lei mi dice non era in uno stato di confusione una domanda che volevo porle lei mi pare che il suo pentimento risale alla quando aveva 39-40 anni cioè quando è che lei si pente in che anno 2003-2004 non lo ricordo io era il 20 ottobre del 2003 del 2003 la ringrazio il momento in cui io decido di collaborare con la giustizia d'accordo ma lei aveva mai parlato del figlio del signor santo locco filipponi di questa questione delle armi nei suoi verbali iniziali ma mi ricordo perché a me risulta ma potrei sbagliare perché verosimilmente non ho il dominio assoluto di tutte le sue dichiarazioni ma a me risulta che questo sia un inedito ma un inedito che risale ad una sua riflessione successivamente al contresame innanzi alla stessa onoranda corte di assise di appello di oggi è un inedito io le sto tecnicamente si dice le sto contestando che lei a distanza dal 2003-2023 la sua emissiva di dicembre 2022 rende una dichiarazione contro un figlio di santo Rocco Filippone come colui il quale avesse commercializzato un notevole quantitativo di armi come mai non lo ha mai dichiarato prima in vent'anni guardi io non mi ricordo esattamente quanto ho dichiarato in merito ma per quel che nei miei ricordi mi sembra di aver dichiarato di Salvatore Mamone e se nelle mie dichiarazioni attuali io sto menzionando un fatto riconducibile a quello ma nel momento in cui io ripercorro tutto un percorso della fase di quando io mi presentai alla caserma dei carabinieri di Polistena in quell'occasione incrociai Rocco Santi Filippone e che piano piano io riappiorano i ricordi dentro quello che è stato il contesto dranghetista in cui io ho orbitato ma io non ho nulla contro Rocco Santi Filippone no forse non mi sono spiegato io non sto dicendo che lei abbia qualcosa contro Tizio contro Caio ci mancherebbe pure non oserei nemmeno pensarlo e non lo penso lasci stare questo Salvatore Mamone perché la mia domanda è specifica se sa darmi una risposta come mai lei ricorda di armi di vendita effettuata dal figlio di Santo Rocco sto leggendo testualmente il figlio di Santo Rocco Filippone dopo venti anni di dichiarazioni la risposta l'ha ricordato ora mi dia una risposta ma non mi dica io ho parlato di Salvatore perché se mi dice che ha parlato già di Salvatore di questo signore è peggio ancora perché parlando di Salvatore Mamone avrebbe dovuto parlare a maggior ragione del figlio di Santo Rocco Filippone se non ne avesse mai parlato di questo Salvatore Mamone forse sarebbe stato molto più attendibile il suo dichiarato questa è la mia contestazione ora se lo ritiene mi dia una risposta altrimenti passo ad un'altra domanda è un approfondimento un approfondimento di temi avvocato ma guardi questo approfondimento di temi è solo ed esclusivamente nella sua mente mi perdoni non c'è alcunché di offensivo perché lei nella lettera scrive non è che nella lettera lei scrive sono addolorato sono affranto perché ripete sempre questo termine a cagione del fatto che quando mi è stata posta la domanda sulla commercializzazione delle armi non ho parlato del figlio di Santo Rocco Filippone lei dice sono dispiaciuto di non essermi ricordato del fatto che è il figlio quindi l'approfondimento se l'è fatto da solo lei e a cagione di quale stimolo ha fatto questo approfondimento sul figlio di Santo Rocco Filippone se alcuna domanda in tal senso mi sembra era stata posta questa è la mia osservazione finale ma l'approfondimento che io mi sono fatto da solo come dice lei no lo dice lei non io le chiedo perdono ha detto lei poco fa mi scusi ho letto le sue parole ho letto le sue domande mi fa rispondere o vuole parlare solo lei succese questo non glielo consento va bene non ho sentito non è vuole parlare solo lei che vuol dire che lei si rivolge così all'avvocato ora risponda risponda alla domanda che è ammessa fatta dall'avvocato si presidente è un approfondimento di temi che rientra nello specifico del mio dovere penso di aver fatto il mio dovere posso passare ad un'altra domanda ritengo di sì allora mi pare di aver capito ma qua mi correga lei o l'ufficio di presidenza o lo stesso dottore Lombardo mi pare di aver capito che lei non aveva mai parlato di doppia affiliazione in afferenza ad alcuni soggetti Giuseppe Girolamo Pino Magli eccetera eccetera ne aveva mai parlato prima per quel ricordo sì credo di sì ma le chiedo perdono io leggo e le contesto perché la doppia affiliazione nella suo narrato e nella struttura narrativa dell'ufficio distrettuale ma per struttura narrativa voglio dire l'impegno anche probatorio questa doppia affiliazione ha un'importanza particolare per stabilire un rapporto tra Calabria e Sicilia lei dice sono profondamente addolorato sto leggendo il pubblico ministero mi corregga se non leggo bene per non essere stato lucido esattamente in questa fase così importante quanto significativa e poi le farò due domande su questa fase così importante e significativa che non so che cosa significhi in bocca ad un collaboratore e sono dispiaciuto di aver avuto amnesie nel riferire quest'altro importante e particolare Tizio Caio Sempronio Pesce Paolo De Stefano avevano la doppia affilazione all'andrangheta e alla mafia siciliana allora un dato così fondamentale lei ritiene perché lo dice che è così importante in questo momento come mai in vent'anni se questo corrisponde ad un inedito non lo ha mai dichiarato un dato così esplosivo mi pare che la risposta io l'ho data rientra nello specifico del mio dovere di collaboratore di giustizia dire tutto quello che è in mia conoscenza ma io non le contesto questo anzi sotto questo aspetto io sono uno dei pochi che ha coraggio nei processi di mafia di dire benvengono mille collaboratori io non le contesto la buona fede io non le contesto la onestà intellettuale io non le contesto un'etica che è indiscutibile io le contesto che un dato così importante secondo la sua stessa affermazione in una fase così importante quanto significativa lei dimentica di narrare una circostanza poi vedremo se è necessario sapere di sapere da chi l'ha saputa una circostanza che è fondamentale nella costruzione della vicenda in cui è impegnata la distrettuale la mia domanda è come mai in vent'anni lei non ha mai parlato di questo ne ho parlato adesso io non ho tutto il mio fascicolo dichiarativo davanti a me la mia collaborazione è nata nel nel 2003 siamo nel 2023 sono vent'anni ragione per la quale io non so tutto quello che ho dichiarato ma questo ma questo non l'ha mai dichiarato lo dice lei mi perdoni se la interrompo ma non in maniera infruttuosa questo lo dice lei sono dispiaciuto di aver avuto ammenesie nel riferire quest'altro importante particolare e poi da indicazioni onomastiche precise avvocato mi pare di capire però che l'ammenesie è riferibile all'esame che aveva fatto in quest'aula precedentemente sì presidente ma mi pare di aver capito presidente perché lei capisce tutto molto più rapidamente di me vorrei dire mi pare di aver capito che quando non l'ha riferito all'altrudienza non l'aveva mai riferito prima questa è la mia contestazione tu lo stai riferendo in questa lettera e non l'ha mai detto prima questo l'abbiamo capito avvocato allora questa è la contestazione sono due i piani ma voglio dire presidente sposta di poco verosimilmente prego Bruzzese ha altro da aggiungere in risposta a quello che aveva detto prima sì ho scritto che sono dispiaciuto di aver avuto l'ammenesia di non averlo dichiarato ma è una penso che sia una normale conduttura diciamo se io in quel momento ho avuto l'ammenesia e poi nel momento in cui sono stato più sereno vista la diciamo mi sono curato di fare l'ammissiva e di scrivere che rientra io credo che rientra in tutto quello che io stavo in quel momento dicendo bene posso farle un'altra domanda se non le spiace signor Bruzzese lei ha parlato di un incontro se ho capito bene di Craxi in una località calabrese in una campagna della Calabria giusto? Sì Lei era presente? Sì e in che anno è avvenuto questo? Dopo la morte di Aldo Moro dopo la morte di Aldo Moro e questo incontro lei ha assistito alle conversazioni che si sono intrattenute tra Craxi ed altri soggetti che a me non interessa nemmeno vengono indicati lei era presente io ho assistito ai convenevoli e dichiarato questo avvocato le chiedo scusa le precedenti udienze va bene no e allora sorvolo ha ragione ma questo è un deficit mio di conoscenza Presidente le chiedo scusa e i contenuti lei perché non assiste poi al discorso dove verosimilmente secondo la sua ricostruzione si sarebbero affrontati dei nuclei tematici che lei ha parlato ha individuato se non ho capito male nel porto di Gioia Tauro cose simili lei come mai non ha assistito? Ma l'ho detto io per quale motivo non ho assistito lo devo ripetere? Come? ho già specificato il motivo e in un secondo me lo può ribadire il motivo e un secondo in piega quando Peppe Pieromalli dopo aver salutato Berlusconi e Bettino Craxi , girandosi per sedersi alla cassetta si accorse di me e gli disse a mio papà Mico Mico sto ragazzo cari e facci e mio padre rivolgendosi alla persona che mi aveva portato lì sul posto e ha detto portalo a casa riportalo a casa punto e dopo di che quindi lei non ha assistito però lei sa di cosa si è parlato cosa? va bene su questo mi fermo perché non ha alcun senso che io le contesti alcune regole interne all'andrangata per come sono accertate nei processi avvocato però guardi che questo è tutto stato un esame non sento è stato un esame lunghissimo proprio su queste tematiche e no e di parte mi sto fermando che dovrebbe essere a sua disposizione diciamo procuratore mi sto fermando che sto dicendo si però se si ferma non deve fare commenti questo è un'altra censura sua che accetto perché ha ragione beh su questa ha più ragione che sulla prima benissimo e questo signore di cui è la tace il nome le conseguenze saranno poi evidenziate lei dice che l'accompagnò di domenica esatto solo quella volta nella sua vita è stato portato da qualche parte da questo signore di domenica io non non trovo un senso alla sua domanda quel giorno lì era domenica lui non lavorava e mi ha accompagnato lì sul posto e dove è venuto a prenderla se lo ricorda a casa mia e chi è salito sulla macchina con questo signore io e lui e lei perché doveva andare già che non poteva nemmeno partecipare avvocato io come sempre e come era giusto secondo quel criterio mi recavo da mio padre che era latitante per portare gli indumenti qualora gli necessitavano ricambi vestiari per portare le imbasciate qualora e quindi quando lei andava ho capito i contatti con suo padre latitante e quindi lei ogni volta che andava da suo padre chiamava questo signore da solo non ci andava mai lei era munito di patente lei aveva macchina aveva una moto io avevo una vespa e dico come mai ma lei sceglieva sempre questo signore per farsi accompagnare avvocato quel giorno faceva freddo mi pare che io ho parlato anche di cappotti e con la vespa fare tutti quei chilometri da casa dove abitavo io era particolarmente freddo la mia domanda sto rispondendo se me ne dai il tempo ma non glielo do perché la mia domanda è un'altra lei quando è in difficoltà svicola mi perdoni se io lo dico al di là di qualsiasi opposizione che io possa subire io le sto chiedendo questo signore solo quel giorno è venuto ad accompagnarla o è capitato in altre giornate solo questo le chiedo io è capitato altre volte ecco e lei come avvisava questo signore lo chiamava la sera prima il giorno dopo come lo avvisava era un uomo di fiducia di mio papà la mia domanda è lei come avvisava quest'uomo si recava da solo lui quel giorno venne a prendermi perché dovevamo portare anche degli indumenti vestiari ho finito signor Bruzzese ho finito io la ringrazio ho finito presidente grazie va bene avvocato ci sono domande di altri difensori possiamo concludere allora per quanto riguarda quello schizzo che ha fatto il procuratore generale il collaboratore io avrei una domanda però finale per Bruzzese si poi ricordiamoci dello scritto si certo prego procuratore generale senta Bruzzese lei nel corso del suo esame ovviamente antecedente all'udienza odierna che non può che saldarsi a quello che lei ci dice oggi mi pare che abbia precisato che anche di Rocco Santo Filippone ne parlava in questa sede in quanto precisava tutta una serie di circostanze a sua conoscenza è così? sì ed è stato in quell'occasione che parlandone proprio nel corso dell'esame lei ha ricordato i particolari di quell'incontro vero l'autovettura di colore verde è così? sì procuratore senta ma è stato il riferimento a Rocco Santo Filippone che le ha fatto venire in mente anche il figlio opposizione perché? com'è che gli è venuto in mente il figlio procuratore? la trovo suggestiva io allora possiamo domandare qual è stato l'elemento la mia domanda non è affatto suggestiva presidente io ho chiesto se parlando del padre gli è venuto in mente il figlio possiamo dire meglio come mai gli è venuto in mente il figlio procuratore generale la formula lei come mai ha parlato del figlio dell'imputato di Filippone era il contesto presidente in cui io ricordavo tutte queste fasi ho ricordato anche del figlio di Rocco Santi Filippone che è entrano anche lui all'andrangheta questo è non so se 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 la mia risposta stendo anche il figlio di Rocco Filippone scusate allora chiediamogli anche come mai in questo processo a lei è venuto in mente di parlare di Rocco Santo Filippone chiediamogli quel giorno che io l'ho incontrato mentre io le riferivo dei particolari e giustamente parlo di Rocco Filippone perché Rocco Filippone è un esponente importante dell'andrangheta della piana di Gioia Tau per quanto mi riguarda ho completato va bene possiamo ritenere giusto chiusa l'audizione solo questo voleva sapere Procuratore Gianni siccome ha fatto quello schizzo quel disegno Bruzzese è stato consegnato ovviamente abbiamo la necessità fisica di acquisirlo e ovviamente ritengo che entri a far parte dell'esame che ha reso oggi Bruzzese sull'acquisizione le difese hanno opposizione non so nemmeno di cosa si tratta ma questo è uno schizzo lo capisco prega Avvocato no di cosa si tratta è uno schizzo ci ha detto lui del terreno di Peppe Picco non lo osserva la difesa Filippone quindi lo possiamo acquisire che dovrebbe dimostrare Avvocato la conoscenza minuziosa di quel luogo dove il padre era la titana si si ma non c'è ragione per opporsi poi è acquisibile comunque va bene e allora disponiamo che la casa circondiera magari Procuratore Generale certo ci mettiamo in contatto ha trasmesso questo schizzo all'ufficio della Procura Generale che poi potrà essere esibita la prossima udienza assolutamente cercheremo di averlo in originale e ce lo faremo anticipare anche attraverso mail e la prossima udienza qual è Presidente? allora poi volevo un Presidente prima prima che si un attimo Procuratore Generale prima di chiudere si volevamo noi io volevo segnalare alla Corte Presidente che purtroppo per la ragione va bene un attimo Procuratore Generale forse intuisco in relazione all'udienza il calendario pensavo che lei stesse parlando della prossima udienza no no precisare questo in relazione a una richiesta difensiva che era stata formulata e sulla quale non avevamo provveduto Presidente le chiedo perdono non riesco a sentire allora c'era stata la richiesta da parte dell'Avvocato contestabile e su questa richiesta non avevamo provveduto quindi integriamo le nostre precedenti ordinanze di l'Avvocato aveva chiesto l'acquisizione dei periodi di detenzione e la titanza di Piromalli classe 21 Piromalli Giuseppe classe 21 in relazione a circostanze che aveva riferito Fondacaro se non sbaglio e su questa richiesta non avevamo provveduto la Corte ritiene di dover accogliere questa richiesta Sì Bruzzese possiamo chiudere il collegamento l'avevo detto abbiamo concluso con Bruzzese sì grazie prima di staccare ci possiamo far dare il nome della persona che era lì col collaboratore e chi ha in mano lo scritto presidente sì ah vi risulta va bene perfetto possiamo chiudere così noi proseguiamo cortesemente dal sito noi in contatto come procura generale con voi va bene ok grazie prego grazie potete chiudere grazie allora la Corte è chiusa va bene accoglie questa richiesta quindi di avere le informazioni sui periodi di attenzione e latitanza di Piromalli classe 1921 e in tal senso ha anticipato nel senso che ha richiesto all'amministrazione penitenziaria la ricerca storica che riguarda i periodi di detenzione di Piromalli Giuseppe e la posizione giuridica e nell'esaminare poi le parti li possono esaminare noi abbiamo riscontrato che in particolare dalla posizione giuridica risulterebbe un periodo di uscita dalle carceri di Piromalli Giuseppe classe 21 il 20 febbraio del 1987 si dà atto di un'uscita per scarcerazione parlo della posizione giuridica invece sulla ricerca storica giusto? no allora questo per quanto riguarda è la stessa cosa e perché chiamano in posizione giuridica ah va bene allora sì va bene va bene va bene allora dalla ricerca storica risulta questo periodo di scarcerazione cioè quello che è un'uscita comunque il 20 febbraio del 1987 per scarcerazione dall'elenco dei movimenti altro atto che ci trasmette il DAP lista detenzioni Cronos questo periodo di scarcerazione non ci risulta quindi andrebbe chiarito questo aspetto perché noi abbiamo da questo elenco dei movimenti una carcerazione che parte dall'84 e in particolare con riguardo a quel periodo febbraio del 1987 abbiamo un ingresso proprio il 10 febbraio del 1987 di Piromalli Giuseppe nella casa circondariale di Reggio Calabria a Panzera e poi il 17 agosto dell'87 un trasferimento a Trani e quindi quell'uscita dieci giorni dopo l'ingresso al Panzera di Reggio Calabria c'è il 20 febbraio il 20 febbraio in questo elenco dei movimenti non c'è quindi andrebbe fatto un chiarimento rispetto a queste discrasie tra questi diversi atti ma si dice no perché è uscita per scarcerazione quindi si dovrebbe capire allora noi chiediamo al DAP in relazione a quanto ho precisato io nel verbale magari rinviando questi due atti di chiarirci la diversità dei dati che risultano attestati e in particolare se effettivamente vi sia state il 20 febbraio 1987 un'uscita per scarcerazione di Piromalle Giuseppe classe 21 e questo nel senso di avere questo chiarimento in relazione alla ragione per cui è stata richiesta dalla difesa l'acquisizione dei dati relative al periodo di detenzione di Piromalle Giuseppe classe 21 sono alleghiamo ai verbali di udienze questi atti che abbiamo citati e che non erano stati prima menzionati Procuratore Generale mi diceva per il calendario di udienza che avevamo fissato Presidenza purtroppo da troppi mesi l'ufficio di provenienza il mio ufficio di provenienza vive un sottorganico nelle funzioni direttive e semidirettive in soldoni sono il solo procuratore aggiunto in servizio sono stato convocato per tre giorni consecutivi per riunioni non rinviabili presso varie sedi soprattutto la DNA quindi purtroppo io il 13 febbraio devo partecipare a queste riunioni e non potrò essere in udienza e non è una udienza diciamo delegabile perché oggi noi mettiamo a disposizione della Corte e delle parti private tutto il materiale che riteniamo essere di natura documentale ovviamente integrato da numerosissime sentenze definitive che a nostro modo di vedere devono entrare nel bagaglio conoscitivo del giudice in vista di quella che sarà la fase della decisione quindi la mia proposta è senza stravolgere il calendario la seguente perdo tre giorni fuori sede ho necessità di questi tre giorni per preparare al meglio la requisitoria potremmo trasformare l'udienza del 13 in quella del 20 io inizierei a discutere il 23 concluderei il 27 nella stessa udienza possono concludere anche le parti civili in modo tale dal 28 mantenendo il calendario presidente che lei ha fissato può iniziare la ringa difensiva quali giorni lei discuterebbe il 20 quindi io non discuterei più il 20 e il 23 ma discuterei il 23 e il 27 e il 20 no e il 20 la teniamo ferma come udienza che ci serve secondo me per interloquire sulle acquisizioni documentali al posto di quella che era fissata il 13 quindi salterebbe soltanto il 13 il 13 lo recuperiamo il 20 e io discuto 23 e 27 insieme alle parti civili che non credo saranno particolarmente lunghe quindi ritengo che sia compatibile così dal 28 riprende il calendario presidente come lei lo ha già la documentazione che è qui ha esibito va bene non si lascia ingannare la dimensione è tutto digitalizzato in due dvd quindi c'è un'elencazione procuratore generale c'è un indicio ovviamente da oggi a disposizione della corte e delle parti presidente quando poi mi può dare la parola un attimo sì un attimo solamente va bene grazie grazie allora si ha detto sì è indicizzata la documentazione però sì allora intanto diamo atto verbale che il procuratore generale esibisce documentazione della quale non capisco niente ne chiede l'acquisizione ponendo dalla disposizione delle altre parti e della corte documentazione compiutamente indicata nell'indice allegato il procuratore generale il procuratore generale rappresenta la difficoltà di poter essere presente all'udienza del già calendarizzata del 13 febbraio per ragioni del proprio ufficio e in particolare del ruolo svolto come procuratore aggiunto stante anche la carenza di colleghi nei diversi nei similari ruoli vacanti e quindi propone che l'udienza del 20 febbraio venga dedicata dopo aver sentito le parti alla acquisizione della documentazione che oggi esibisce così dando alle parti la possibilità di esaminarla il 23 inizierebbe la sua requisitoria che si concluderebbe il 27 e lo stesso giorno 27 discuterebbero le parti civili e per quanto riguarda la discussione della difesa e tutte le altre udienze così come calendarizzate rimarrebbero invariate prego avvocato Stajano presidente il 28 io devo discutere un omicidio come? un omicidio? no avvocato io questo calendario l'ho dato appositamente esattamente il 16 gennaio e da questo calendario io non derogo ma mi fa parlare presidente le chiedo scusa lei ha dato il calendario ma c'è giorno 29 e giorno 2? e come no? lo trovo? no 1 e 2 c'è 1 e 2 lei ce l'ha vi potete semmai scambiare con qualche avvocato ma le date sono quelle ma io non le sto chiedendo un'altra data se lei non mi fa finire presidente allora la faccio finire al di là del fatto che potrebbe accadermi un accidente quindi deve spostare la data no questo e ma se lei sapesse le mie condizioni se sapesse le mie condizioni di salute probabilmente nemmeno nemmeno me lo direbbe e allora non si alteri che non fa bene come? non si alteri dottore Lombardo ma lei è stato sempre così grazioso le voglio bene oggi la sento strana stagliano completi quello che stavo dicendo non sento completi quello che stavo dicendo io se fosse possibile questo stavo chiedendo il consenso alla corte discuterei verso le ore 11 e 30 di giorno 1 perché prima ho un'altra discussione a Catanzaro se è possibile o venire anche se è necessario venire alle 10 e mezza avvocato ma era come era previsto perché io ho previsto per ma presidente non lo devo dire a lei che sto prenotando la discussione per giorno 1 mi sembra corretto è un atto di rispetto per la corte era solo questo il problema era solo questo il problema non era un problema era una dichiarazione di impegno di una data se la corte me lo consentiva sì sì io ho previsto comunque il 28 febbraio discussione della difesa di Filippone e anche l'1 marzo siete due i difensori ah benissimo io l'1 marzo e poi vediamo cosa fa Guido Contestato questo questo non 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 e non potevo indicare io un giorno un difensore un giorno l'altro esatto ci siamo capiti per la prima volta nei nostri incontri è stato intempestivo presidente perché volevo solo per un atto di gentilezza allora quindi poi lo sapete iniziamo verso le 10 quindi è possibile allora giorno 1 ore 10 metto va bene e poi esatto il 28 febbraio dovrebbe parlare l'altro difensore va bene allora la corte aderisce alla richiesta del procuratore generale e nulla opponendo se ho capito se ho capito bene le altre parti in relazione al mutamento del calendario così come specificato revoca l'udienza del 13 febbraio e quindi ci rivediamo il 20 febbraio la documentazione è a disposizione delle parti nella nostra cancelleria indichiamo al DAP di fornirci notizie dobbiamo avere notizie su quel punto del quale abbiamo chiesto il chiarimento naturalmente averle non e di questo possiamo subito dare atto anche non oltre chiaramente dobbiamo avere per il 20 queste notizie va bene perché poi ne daremo atto in udienza si tratta solo di avere quel chiarimento e quindi ci rivediamo il 20 mi pare che non ho trasciato nulla Presidente sì prego scusa quindi per le produzioni documentali e l'udienza del 20 anche per la difesa veramente a questo punto se avete da fare le difese produzione documentale fatele almeno 5-6 giorni prima alla Procura Generale perché comunque potrà esprimere il suo parere sull'acquisizione o no e se ce li fate avere anche in corte prima è anche meglio va bene va bene d'accordo si quando lo produce ma non c'è opposizione sì certo d'accordo segnato va bene allora l'udienza è conclusa per oggi grazie arrivederci grazie a tutti grazie a tutti